Il crollo di Rivoli, lo strassiante appello della madre di Vito. Troppo forte il dolore della madre di Vito Scafidi, il ragazzo morto nel crollo del controsoffitto di un liceo di Rivoli. La signora chiede l'intervento del capo dello Stato, Giorgio Napolitano, per far tornare la salma del ragazzo a casa sua, prima di essere sepolta nel cimitero cittadino. Come mai? Dopo che mi è stato rubato un figlio di 17 anni, in un posto dove doveva essere sicuro, io, sua madre, non posso vestirlo e portarmi a casa la sua bara aperta, nel suo ambiente, per godercelo nella nostra intimità. Lui non è più tornato in questa casa al presidente Napolitano. Io chiedo questo con un dolore e una morte nel mio cuore, di quello di mia figlia e di mio marito. Voglio che mio figlio, l'ultimo saluto, venga a farcelo a casa. È a bara aperta, vogliamo godercelo un po' qui, non in un ospedale, deve tornare a casa nostra, a casa sua. Era un ragazzo d'oro, un angelo, vi prego, ascoltate questa richiesta, lo voglio qui, lo voglio qui, quando l'ho finito tutto lo voglio qui a casa, lo voglio qui. Vi prego, solo questo. La risposta del presidente Napolitano non si è fatta attendere, intervenuto insieme al sindaco di Rivoli, per accelerare le pratiche amministrative e far tornare Vito a casa sua dall'ospedale in cui si trovava. Ormai l'inchiesta ha preso avvio e non ci sono ragioni affinché la salma sia trasferita. Le indagini intanto hanno anche individuato l'impresa che nel 1990 fece i lavori di ristrutturazione nella scuola.